Devo dire che innanzitutto voglio ringraziare l'Arenco che quando l'ho incontrata prima del Covid, quindi oltre un anno fa, gli avevo proposto una sponsorizzazione di un parco e non è come si fa di solito che chiedi 100 per avere 50. Noi abbiamo chiesto 50 e loro ci hanno dato 100, non ce l'aspettavamo sinceramente nemmeno noi e la volontà dell'azienda è stata quella di realizzare un parco totalmente inclusivo, quindi questo non è un parco giochi, qualche genitore ci chiede perché non c'è lo scivolo, perché lo scivolo non è per tutti. Questo qui è il primo parco della città totalmente inclusivo, una città che è molto sensibile ai problemi delle persone meno fortunate, questo oggettivamente era un intervento che mancava, grazie alla grande disponibilità dell'azienda, alla grande sensibilità siamo riusciti a realizzare nel polmone verde la città. Ci auguriamo che questo luogo qui sia anche un luogo di incontro e di socializzazione per i bambini, hanno deciso i progettisti di sviluppare questo parco a tema musicale, siamo la città della musica, giochi dove i bambini dal punto di vista motorio si muovono e dove magari sviluppano una sensibilità anche per la musica, non guasta, non fa male e appunto ringrazio di nuovo l'azienda che ha voluto sostenerci in questo intervento. Noi in realtà come Renko facciamo sempre delle operazioni nei territori in cui siamo, cerchiamo di restituire qualcosa a quello che i territori ci danno, noi siamo un'impresa che lavora molto all'estero, in Africa, in Asia, quindi finora i nostri interventi si sono rivolti a questi paesi, però mi sembrava giusto fare anche qualcosa per la città di Pesaro che è la città in cui abbiamo la nostra sede.